Siamo con Luca Cipisi, il membro della presidenza del Partito Socialista Europeo e vogliamo chiedere qual è la possibilità di esprimerci direttamente come cittadini. E allora mi sembra del tutto naturale che un'organizzazione della società civile politica ma non partitica come l'Unimento Federalista Europeo che in questa tradizione di tanti anni utilizzi per primo l'opportunità dell'iniziativa dei cittadini per cominciare a dare contenuto alla necessità di una democrazia dal basso dell'Europa. Come socialisti italiani noi siamo da sempre particolarmente attenti alla istanza federalista europea e questo è il vero federalismo, non il federalismo farlocco, inventato tra Lombardia, Emilia e Romagna ma il federalismo a livello continentale nella globalizzazione, il federalismo dell'Europa assieme all'Asia, all'America, all'Africa, all'interno di un mondo di pace, di un mondo di cooperazione. Questo noi vogliamo, questo grande macro richiede un micro molto importante, la partecipazione di ogni singola persona, di un singolo uomo, di un singolo dono dell'Unione Europea. Buon lavoro ai federalisti, potete contare sul nostro sostegno. Grazie. Grazie a tutti.